Allora, buonasera, benvenuti a tutti e a tutte. Sono molto contenta che il seminario di quest'anno dei lincei per la scuola sulla letteratura sia dedicato al tema delle donne, che è un tema, come vedete, ricchissimo. Cioè noi abbiamo fatto alcune scelte, ma nel momento in cui facevamo queste scelte ci rendavamo conto di quante altre si sarebbero potute fare. Purtroppo Nadia Fusini ha avuto un contrattempo per cui ci ha fatto sapere che oggi non poteva essere con noi, quindi vi dovete accontentare della mia relazione. Abbiamo qui, come forse già sapete, Alessandro Benassi e Serena Pezzini che seguiranno il corso e faranno quello che ora ci diranno. Prego. Allora, oggi come anche le prossime volte per i prossimi incontri che avremo per la letteratura, ci sarà un incontro, una lezione frontale dei vari ospiti che sono segnati sul programma. Dopodiché ci sarà una pausa e poi le domande ai relatori o alle relatrici e poi ci saranno i laboratori. I laboratori consisteranno appunto nel farvi lavorare sulle tematiche che sono state sviluppate durante lo stesso incontro, quindi vi chiediamo un po' di attenzione già orientata anche in questo senso per provare a convertire in un formato didattico che voi possiate riutilizzare in qualche modo a lezione, a scuola, le cose di cui si è parlato durante il giorno. Poi insomma entreremo nel dettaglio quando poi lo faremo, però tenetevi pronti anche a questo, insomma pensate le cose che ascoltate anche già in quest'ottica, così poi ci lavoreremo insieme, d'accordo? Nient'altro, poi vi lascio Alina Bolzoni. Grazie. Ale? Ci dici niente? Comunque per qualsiasi questione sull'organizzazione, eccetera, potete fare riferimento a Alessandro Benassi. Allora volevo intanto cominciare a dire da come, da dove è nata diciamo la conversazione di oggi, diciamo che ha a che fare con la questione della visibilità delle donne che leggono o che non leggono. Per molti anni ho lavorato su un tema che poi sboccherà diciamo in un libro che dovrebbe uscire a fine aprile che si chiama Una meravigliosa solitudine, che è diciamo che è la definizione che Proust dà della lettura, in quanto appunto nel momento in cui si legge si è da soli ma nello stesso tempo c'è la presenza dell'altro o dell'altra e infatti un'altra definizione molto bella che Proust dà è quella della lettura come di una solitudine popolata di voci, no? Perché appunto di voci che ci interrogano sul nostro sul nostro io. Allora in queste ricerche diciamo che ho condotto soprattutto nella prima età moderna, quindi a partire da Petrarca fino a Tasso, Montegna, ho trovato molte autorappresentazioni appunto del lettore, con temi molto interessanti, del tipo appunto che leggere, come dice ad esempio Machiavelli, vuol dire come evocare l'autore del testo che si legge, parlare con lui, quindi diciamo c'è una lunga tradizione appunto di questa rappresentazione della lettura appunto come un dialogo con l'autore e anche diciamo un incontro personale in cui non solo appunto leggendo l'altro riconosciamo noi stessi, ci rispecchiamo nell'altro, ma anche in un certo senso si crea un legame di amicizia con l'autore appunto che leggiamo. Allora parlavo appunto di Petrarca, cioè il mio percorso di ricerca è iniziato con Petrarca. Ecco in Petrarca ad esempio uno dei temi è la parità, cioè lui a differenza di quanto accadeva nel Medioevo avverte sicuramente l'autorità degli antichi, ma l'avverte in termini diciamo di eleganza formale oppure di certe soluzioni filosofiche e parla con gli antichi da pari a pari. Addirittura come forse ricorderete scrive delle lettere a Cicerone in cui gli rimprovera certe debolezze e anche a Seneca in cui gli rimprovera ad esempio di essere stato troppo indulgente con quel terribile tiranno che era Nerone per dire. Quindi che cosa mi ha colpito in questa ricostruzione appunto dell'autorappresentazione del lettore? Mi ha colpito da un lato una ricchezza di temi che sono anche molto moderni a cui accennavo, mi ha colpito il fatto che non ho trovato nessuna donna, non ho trovato forse per colpa mia però non ho trovato nessuna voce femminile. Ora la cosa è tanto più strana in un certo senso perché come sapete col 500 e quindi con lo sviluppo della stampa abbiamo un nuovo protagonismo femminile nella scrittura, nella pubblicazione dei libri ed abbiamo anche molte belle rappresentazioni di donne che leggono. Quindi diciamo da un lato una mancanza, cioè il fatto che non ho trovato, come invece ho trovato molti esempi al maschile, la rappresentazione di donne che si descrivono mentre leggono e che si considerino alla pari con l'autore che leggono. Questo non l'ho trovato. Invece appunto come sapete ci sono molti bellissimi ritratti già nel 500, poi questo sarà un filone che continua fino all'8-900. Ci sono moltissimi ritratti appunto di donne che leggono. Ad esempio vedete questo famoso ritratto di Andrea del Sarto, la dama col petrarchino. Sapete che Petrarca era appunto un testo esemplare, un testo di riferimento fondamentale. Vedete che lei indica col dito sul manoscritto due sonetti che sono uno di seguito all'altro nel canzoniere. Mentre invece in un altro famoso ritratto di Laura Battiferri, che era a sua volta una poetessa, Bronzino appunto la rappresenta mentre indica sempre questo codice aperto con le rime di Petrarca, in cui però le due poesie che possiamo leggere non sono in successione. Quindi indica diciamo il fatto che lei non solo sta leggendo Petrarca, ma diciamo legge una personale antologia di Petrarca, fa un suo personale percorso diciamo di lettura. Quindi ecco questo è un po' il punto di partenza del nostro percorso di oggi. Quindi da un lato col 500 abbiamo un nuovo protagonismo femminile nella scrittura ma anche nella pubblicazione delle proprie opere, sia pure con qualche difficoltà. Abbiamo anche una testimonianza figurativa di donne e di donne che leggono. Però non abbiamo appunto, come dicevo, una, come dire, un'autoaffermazione della donna che legge. Ci sono ancora evidentemente delle difficoltà. Una, quindi cosa vi proporrò io oggi? Innanzitutto vi proporrò la testimonianza di Tuglia d'Aragona in cui, come dire, si esalta la lettura. Ecco, però vedrete che si esalta la lettura ma in una chiave, come dire, da un lato molto bella, molto interessante, da un lato però con una serie di steccati, di limiti. Poi leggeremo un testo invece dei primissimi anni dell'Ottocento contro le donne che leggono. Quindi diciamo, leggeremo un testo in cui capiremo perché c'è questa difficoltà, no? L'autorappresentazione delle donne che leggono. E concluderemo con qualche accenno a Virginia Woolf. Allora cominciamo appunto dal primo punto. Ecco, questo è un bellissimo ritratto del moretto che rappresenta Salome e che viene, così insomma, forse non giustamente attribuito alla figura di Tuglia d'Aragona. Chi era Tuglia d'Aragona? Tuglia d'Aragona nasce nel 1510 circa e muore nel 56. Tuglia è una, diciamo, esempio di quel fenomeno letterario e sociale che si può definire come la cortigiana onesta, no? È la cortigiana colta che, come vedremo anche dal brani che leggeremo insieme, vuol fare proprio della cultura, della sua capacità di scrivere, uno strumento di ascesa sociale. Cioè vuole usare le sue doti letterarie come uno strumento per cambiare la propria immagine immagine pubblica. Comunque, vedete, è molto interessante, anche se discutibile, il fatto che qui, diciamo, abbiamo una rappresentazione di Salome, quindi di una bravissima danzatrice che però ha conseguenze pericolose, diciamo, sul contesto in cui vive. Quindi interessante questo accostamento appunto tra Salome e Tuglia, un accostamento, attenzione, che è stato fatto dalla critica successiva. Ora qui ci sarebbe da aprire tutto una, come dire, una parentesi, cosa che non farò, ma che poi anche Veronica non tratterà, cioè su come non solo abbiamo nel 500 questo nuovo protagonismo femminile nella scrittura, ma come la critica nei secoli successivi abbia reagito spesso malamente, diciamo, a questo nuovo protagonismo. Quindi interessante, qui abbiamo questo bellissimo ritratto di Salome e si dice magari attraverso Salome il pittore voleva rappresentare Tuglia d'Aragona. Sappiamo però che Tuglia d'Aragona, come del resto altre cortigiane e altre scrittrici del suo tempo, aveva una forte competenza musicale, cioè non era soltanto poetessa, ma praticava anche la musica. C'è ad esempio la testimonianza di Zilioli che dice, toccava gli strumenti musicali con dolcezza tale e maneggiava la voce cantando così suavemente che i primi professori degli esercizi ne restavano maravigliati. Parlava con grazia e deloquenza rarissima, sì che, o scherzando o trattando davvero, allettava e rapiva gli animi degli ascoltanti. Quindi, ecco, questa capacità un po' da sirena, no? Questa capacità di sedurre, diciamo, gli animi di chi l'ascolta sia attraverso la poesia sia attraverso la musica. Perché si chiama Tuglia d'Aragona? Tuglia d'Aragona, diciamo, era un nome che si era dato a lei, che insomma le aveva suggerito la madre, perché diceva di essere figlia del cardinale Luigi d'Aragona, quindi di avere così una ascendenza non ufficiale, ma molto, molto elevata. Sicuramente la madre le dà un'educazione molto ricca, come dicevamo, vive all'inizio tra Firenze e Siena, a Roma la troviamo in compagnia di un banchiere fiorentino, Filippo Strozzi, e soprattutto è importante la sua presenza a Venezia. Ecco, quindi vorrei fermare un momento su questo, perché è importante la sua presenza a Venezia? Perché Venezia, diciamo, è il luogo ideale, in un certo senso, anche di queste nuove figure femminili, cioè della cortigiana onesta, della cortigiana accolta, che diventa il punto di riferimento di una serie di letterati, ma anche appunto di artisti. In un certo senso abbiamo le accademie ufficiali, ma abbiamo anche i salotti. E' interessante, ad esempio, il fatto che uno dei suoi amici e ammiratori, il letterato Sperone Speroni, fa di Tullia uno dei protagonisti del suo dialogo d'amore. Anche questo è interessante, troviamo queste figure appunto sia nelle prime raccolte di poesie, che comprendono anche le poesie femminili, sia nei dialoghi, appunto sia nei dialoghi, perché appunto c'è questa dimensione anche sociale. Quindi Tullia partecipa, almeno nella rappresentazione che Speroni dà, alla discussione sull'amore e a sua volta, adesso questo tornerò un attimo dopo, scrive un dialogo molto denso dal punto di vista filosofico, sulla infinità d'amore. Allora, lo Speroni, appunto, nel dialogo d'amore, fa di Tullia, dicevo, uno dei protagonisti del dialogo, e le fa dire questo. Lo Arettino non ritragge le cose men bene in parole che tiziano in colori. Certo, ambidù insieme, cioè il sonetto e il ritratto, sono cosa perfetta. Questo dà voce al ritratto, quello all'incontro di carne ed ossa, veste il sonetto. Cioè, cosa le fa dire Speroni? Speroni le fa dire che, appunto, c'è un incontro fortunato fra le poesie di Arettino e i ritratti di Tiziano. E' come, appunto, se attraverso le poesie, Tiziano, cioè, attraverso le poesie, i ritratti di Tiziano potessero parlare. Voi sapete che c'era questa tradizione, appunto, della pittura come una poesia muta. Perché ricordo questo? Perché, appunto, qui Speroni, in un certo senso, le fa omaggio. Cioè, le fa dire qualcosa di molto raffinato, qualcosa che va nel cuore del rapporto tra poesia e pittura, tra parola e immagine. Ora, cosa succede? Che, appunto, quindi la troviamo Venezia, la troviamo al centro di una rete di rapporti con filosofi, letterati, poeti, musicisti, pittori. Poi nel 1543 si sposa a Siena e si reca poi negli anni successivi a Firenze, dove viene, diciamo, protetta da Cosimo I e dalla moglie di Cosimo, perché, secondo le leggi del tempo, come cortigiana avrebbe dovuto portare una specie di insegna, una specie, come dire, di fular giallo, ecco, che la doveva connotare come cortigiana. E invece, proprio grazie alle sue qualità letterarie, appunto, Cosimo I le permette di non farlo. Proprio, quindi, a Cosimo I dei Medici, lei dedica, l'accennavo prima, il dialogo della infinità d'amore, un dialogo molto interessante, anche molto impegnativo, che viene così commentato, dal solito aretino, un po' mal pensante. Dice, la Tuglia ha guadagnato un tesoro, che per sempre spenderlo mai non gli scemerà, e l'impudicizia sua, per si fatto onore, può meritamente essere invidiata e dalle più pudiche, e dalle più fortunate. È veramente una mala lingua l'aretino, no? Che però, diciamo, che però riconosce il valore di quest'opera, no? E quindi già qui troviamo un elemento di quella tensione che vorrevo farvi vedere, anche, appunto, nelle frasi di Tuglia d'Aragono sulla lettura. Quindi, cosa dice aretino? Dice, appunto, che grazie a questo dialogo dell'infinità d'amore, Tuglia ha guadagnato un tesoro, e l'impudicizia sua, grazie all'onore che lei acquistano con la sua scrittura, può essere meritamente invidiato e dalle più pudiche, e dalle più fortunate. È un testo molto ambiguo, no? Come vedete. Però è interessante, appunto, vedere questa tensione, diciamo. Questa è una cortigiana, quindi è impudica. Però ha scritto qualcosa che la farà invidiare, addirittura, dalle più, dalle donne più, più pudiche. Un altro aspetto interessante è che, in questo dialogo dell'infinità d'amore, troviamo, naturalmente, diversi interlocutori, e tra questi un filosofo, Benedetto Varchi. Cosa fa la critica successiva, ma anche la critica quasi contemporanea? Dice, ma, Tuglia ha pubblicato questo dialogo a nome suo, però, insomma, è un po' troppo per una donna, cioè un po' troppo raffinato, un po' troppo complesso. Glielo deve aver scritto Benedetto Varchi. Ora, sarebbe interessante fare una specie di storia di tutto questo, che arriva fino a Elena Ferranti, in sostanza. Cioè, il fatto che, quando c'è un'opera, no? Un'opera scritta, che viene pubblicata da una donna, si mette in discussione il fatto che veramente lei l'abbia scritta. Serena aveva fatto la tesi sulla prima raccolta di lettere di Celia, di Celia, nobile romana, e subito dicono, ma, chissà se davvero, no? Le ha scritte lei. Quindi, anche questo è un aspetto interessante. Quindi, di Tulli abbiamo ricordato questo dialogo dell'infinità d'amore e poi, diciamo, vorrevo ricordare che, avevo già accennato, che scrive, appunto, delle poesie che vengono pubblicate e poi scrive un'opera su cui, appunto, mi voglio un attimo fermare, perché c'è un'introduzione che riguarda, appunto, la lettura, no? Che riguarda la rivendicazione, appunto, della lettura. Questa opera, che viene pubblicata dopo la morte di Tullia, cioè il Guerin Meschino, nel 1560, è una traduzione che lei fa in ottave, appunto, di questo poema epico, cavalleresco, che lei traduce da un testo spagnolo, senza conoscere quello che era l'originale trecentesco di Andrea da Barberino. Comunque, diciamo, è interessante questo fatto, anche perché stiamo parlando di diversi generi letterari. Ora, una donna, ok, scrive poesie, lo sappiamo, può pubblicare delle rime, però il fatto che una donna, diciamo, si provi in qualche modo, come dire, si confronti con un genere come il poema cavalleresco, non è così banale. Cioè, significa, come dire, un'incursione in un territorio che in genere non veniva considerato degno, insomma, all'altezza delle donne. Perché ricordo questo poema? Perché, appunto, nella... Ecco, vediamo. Ecco, qui c'è un brano un po' lungo, casomai poi ve lo possiamo dare, però, volevo dire che potete trovare su Google questo testo. Quindi, se qualcuno di voi è interessato, si chiama Il Meschino, altramente detto il Guerrino, fatto in ottava rima dalla signora Tullia d'Aragona. Quindi, su Google trovate tutto il testo. Se lo volete leggere, dal punto di vista letterale, non è un granché, ma è molto, appunto, avventuroso, perché è la storia di questo Guerrino Meschino, il quale, di nome le famiglie, ma viene venduto schiavo da piccolo e poi si conquista via via una fama grazie alle sue imprese valorose e la cosa divertente è che queste imprese lo portano in Oriente, lo portano nell'inferno, lo portano nel Purgatorio, insomma. E cosa fa Tullia? Tullia, appunto, traduce il testo e via via ci mette delle osservazioni di tipo moraleggiante. Ma vediamo, appunto, l'introduzione, la sua presentazione ai lettori, che è uno rarissimo esempio, appunto, di una donna che esalta la lettura. E vediamo come lo fa. Di quanti onesti e dilettevoli spassi possono avere le persone umane, si vede per chiarissima esperienza che ne uno è tanto comodo e tanto caro quanto quelli che si ha da leggere cose liete e piacevoli. Perciò che tutti gli altri spassi conviene quasi che si prendano o con l'intervenimento d'altri, e questi noi non possiamo avere continui, né quando o come vogliamo. Quindi, prima di tutto, lei esalta, come dire, il fatto che il piacere della lettura dipende solo da noi, non dipende da nessun altro. Quindi, diciamo, questo è già un grande valore. E poi dice che ci sono, appunto, dei modi di prendere piacere che ci possono stancare, infastidire, come il viaggiare, i giochi, gli amori e molte altre cose tali che qui non è il mestiere di spiegare distresamente. Cioè, anche gli amori possono, a un certo punto, creare dei problemi. L'Aove nel leggere noi possiamo, da noi stessi, governarsi a tutto voler nostro, soli, accompagnati, poco, molto, senza spesa, senza pericolo, senza danno, senza travaglio, ma con piena satisfazione e contentezza di noi medesimi. Ecco, vedete, torna proprio questo tema, cioè della libertà che la lettura dà. E anche di un piacere che in qualche modo dipende solo da noi, che siamo in grado di controllare. E questo sì perfetto solazzo e questo sì gran sollevamento dell'animo è comune universalmente a ogni uomo e a ogni donna di non in tutto basso e vilanimo. Quindi, diciamo, può riguardare tutti purché uno abbia un animo non vile, uomini e donne. Quindi c'è una specie, diciamo, di aristocrazia dell'animo, però. Alle donne poi, tanto più utile e necessario, quanto Giovanni Boccaccio seppe molto ben con ragioni mostrare al mondo nel primo proemmio delle sue giornate, ove distesamente mostra che quasi a tal sollevamento delle donne sole egli se ne ha posto a scrivere quel libro. Quindi, diciamo, qui non solo si esalta, come dire, il piacere della lettura, il fatto che sia assolutamente libero, autonomo, che non dipenda da nessuno, ma c'è una particolare attenzione alle donne e poi vedremo l'importanza di questa citazione. Perché è particolarmente importante per le donne? E qui lei, che era una brava letterata, cita il Boccaccio. Cita il Boccaccio appunto nel proemmio dove, qui ho riportato il testo, ma probabilmente lo ricorderete, dove appunto lui dice che ha scritto il Decameron perché è stato grato quando soffriva per amore a chi l'ha aiutato, l'ha confortato. E lo stesso vuol fare lui, soprattutto nei confronti delle donne. E lo leggo brevemente. E chi negherà questo quantunque gli si sia, non molto più alle vaghe donne che agli uomini convenirsi donare, cioè dare il conforto, no, della conversazione, della condivisione della sofferenza, essi dentro a delicati petti, temendo e vergognando, tengono le amorose fiamme nascose, le quali, quanto più di forza abbia anche le palesi, coloro il sanno che l'hanno provato e provano. Ed oltre a ciò, ristrette da voleri, da piaceri, da comandamenti dei padri, delle madri, dei fratelli e dei mariti, il più del tempo nel piccolo circuito delle loro camere racchiuse dimorano e quasi oziose sedendosi, volendo o non volendo in una medesima ora, secoli volgono diversi pensieri, li quali non è possibile che sempre siano allegri e se per quelli, mossa da focoso disio, alcuna malinconia sopravviene nelle loro menti, in quelle conviene che con grave noia si dimori, se da nuovi ragionamenti non è rimossa. Senza che, elle sono molto menfortiche gli uomini a sostenere e che degli innamorati uomini non avviene siccome noi possiamo apertamente vedere, essi, se alcuna malinconia o gravezza di pensieri gli affligge, hanno molti modi da alleggiare e passare quello, perciò che a loro, volendo essi, non manca l'andare attorno, udire e vedere molte cose, uccellare, cacciare o pescare, cavalcare, giocare, mercatare, dei quali modi, ciascuno ha forza di trarre o in tutto o in parte l'animo a sé ed al noioso pensiero rimuoverlo almeno per alcuno spazio di tempo, appresso il quale o in un modo o in un altro o consolazione sopravviene o diventa la noia minore. E' un bellissimo passo su cui si potrebbero fare molte osservazioni. Mi limito solo a dire che qui vediamo proprio, come dire, dal vivo alcune differenze in qualche modo antropologiche che a lungo hanno caratterizzato nella cultura occidentale il mondo femminile e il mondo maschile. Il mondo femminile sta dentro la casa, sta nell'interno, il mondo maschile sta fuori e quindi, dice Boccaccio, giustamente c'è una malinconia maggiore delle donne, c'è una malinconia e c'è un ripiegarsi su se stessi, mentre invece appunto il mondo maschile è il mondo dell'esteriorità, dell'attività. Quindi, diciamo, è interessante il fatto che in questa ottica la lettura rompe la separazione fra il dentro e il fuori. Quindi, diciamo, la lettura apre spazi possibili, permette appunto alle donne e Boccaccio lo farà nel modo meraviglioso che sappiamo, di confrontarsi con una serie di vicende, di vicende in cui appunto riflettere o no le proprie vicende, i propri sentimenti. Ecco, quindi riprendiamo un momento il filo del nostro discorso. Cosa dice? Cosa dice come appunto ha dimostrato Boccaccio? E qui, diciamo, ha un punto di riferimento ben preciso. Ma qui veniamo alla parte più moralistica. Solo che, solo che, dice, Boccaccio ha scritto delle cose tremende, scellerate, ha scritto delle cose immorali. Anche se, e qui lei dimostra di essere all'altezza, diciamo, di conoscere bene il canone literario contemporaneo, anche se molti l'hanno chiamato il padre della lingua, il cicerone toscano, come ha fatto anche il mio bembo. Guardate, in questo piccolo, in questa piccola espressione c'è tutta la riaffermazione di Tulliano, il mio bembo, cioè, padre eterno dalle lettere, il grande bembo, il mio bembo. Quindi vedete come appunto una riaffermazione di familiarità. Nello stesso tempo lei si permette di dire ma bembo è sbagliato perché, come dire, ci propone un modello boccaccio che per tanti aspetti è immorale, è lascivo e così via. E, a questo punto, viene un passo molto interessante. Quindi lei cosa dice? Piacere della lettura, come dice boccaccio, soprattutto per le donne, però boccaccio ha il limite di essere immorale. Allora dice, vedete questo brano che ho messo nella depositiva, io adunque, la quale ho, nei primi anni miei, avuta più notizia del mondo che ora con miglior senno non vorrei aver avuta e la quale in me stessa e molte altre ho veduto di quanto gran danno sia nei giovanili animi il ragionamento, ma molto più la lezione delle cose lascive e brutte e d'altra parte conoscendo quanto le donne e gli uomini siano vaghi di leggere o di ascoltare cose piacevoli andai per qualche tempo ricercando quasi tutti i libri di storie e di poesie che avesse la lingua nostra. Quindi dice, qui lei in sostanza vuole presentare la propria opera, cioè dice, io quindi vi propongo un'opera piacevole, dilettevole che però non è nello stesso tempo del tutto morale, diciamo. Ma è molto interessante, prima di questa specie di pubblicità della propria opera, quello che dice, vedete, io adunque la quale ho nei primi anni miei avuta più notizie del mondo che ora con miglior senno non vorrei aver avuta. Cioè, ricordiamo che lei è una cortigiana, ha appena ottenuto il permesso di non portare il nastro giallo che connota le cortigiane, ma non rinnega il suo passato. Quindi dice, io che nei primi anni ho avuto più conoscenze del mondo che ora non vorrei avere avuto. Quindi è molto bello proprio questa tensione che vi dicevo tra la propria sorte, la propria condizione sociale che lei continua ad avvertire come un peso molto forte e il tentativo di uscirne, appunto il tentativo di usare, come dicevo, la propria opera letteraria come una liberazione, diciamo, da questo. E quindi cosa dice? Dice appunto che lei ha cercato quindi la letteratura, ha ripercorso, dice in modo un po' megalomano tutte le storie, le poesie che sono state fatte in italiano e ha visto che molto belli sono i poemi e cita Morgante, Boiardo, Mambriano, ma dice lo stesso Ariosto, questi poemi, nello stesso Ariosto questi poemi contengono cose lascive e disoneste e indegne che non solamente monache, donzelle o vedove ne maritate ma ancora le donne pubbliche se gli lasciano vedere per casa non essendo però cosa nuova che a una donna per necessità o per altra malaventura sua sia avvenuto di cadere in errore del corpo suo e tuttavia si disconvenga non men forse a lei che all'altra l'essere disoneste sconcia nel parlare delle altre cose è bellissimo questo cioè dice ma anche noi anche noi donne che o per necessità o per malaventura abbiamo sperimentato certe condizioni di vita tanto più noi dobbiamo evitare la disonestà dobbiamo evitare diciamo di parlare in modo disonesto di leggere e di esibire libri sconci ed è incredibile che diciamo incredibile non tanto che tra questi libri pericolosi metta anche l'Ariosto e dice è una cosa che vediamo anche ad esempio nell'Aretino nelle sei giornate dell'Aretino cioè che non solo come abbiamo visto nei primi ritratti il petrarchino il petrarchino in mano diventa come dire un simbolo di condizione elevata ma anche l'Orlando furioso veniva esibito anche dalle cortisane come una specie di status simbolo insomma quindi queste adesso le leggiamo un po' rapidamente ecco però questa introduzione che Tullia questa indirizza diciamo al lettore come vedete è molto interessante perché da un lato non nasconde il suo passato ma d'altro lato appunto rivendica l'esigenza di produrre una letteratura che venga in conto al piacere ma che non sia appunto licenziosa e quindi va bene dice che appunto dopo lunga considerazione ha trovato questo testo il il guerin meschino che lei presenta traduce insomma in queste ottave un po' non di grande qualità letteraria ma ogni volta così come Ariosto vi ricordate all'inizio dei vari dei vari canti aveva esibito il proprio punto di vista così lei lo fa ma in chiave appunto moraleggiante come una giustificazione morale appunto di quello che sta che sta facendo va bene qui diciamo sono partita dal fatto di dire che non ho trovato voci femminili che rivendichino la propria qualità di lettrici però ecco questa di Tullia è un esempio molto interessante come dire di rivendicazione del piacere della lettura e poi con questa dimensione molto autobiografica molto particolare per cui da un lato lei non nasconde di essere stata forse di essere ancora una cortigiana ma nello stesso tempo come dicevo vuol fare proprio della scrittura uno strumento di liberazione allora avevo quando appunto mi sono interrogata sul perché non trovavo diciamo dalle voci femminili che esaltassero se stessi come lettrici diciamo di autorappresentazione della lettrice ho pensato che ogni volta l'abbiamo visto anche nell'esempio che abbiamo letto ogni volta si trattava per le donne di combattere contro dei pregiudizi secolari che durano veramente a lungo e come esempio di questo vi voglio proporre e questo diciamo è la seconda parte della nostra chiacchierata un testo francese che è stato tradotto anche in italiano e che è stato pubblicato nel 1801 e come vedete è il testo di Sylvain Marechal progetto di legge per vietare alle donne di imparare a leggere allora chi era questo signore questo signore magari noi vedendo il titolo possiamo pensare a un vecchio codino reazionario ma che questo signore aveva partecipato alla rivoluzione francese e addirittura aveva contribuito con Baboeuf Buonarroti e D'Arte al manifesto degli eguali nel 96 quindi diciamo dal punto di vista sociale era tra come dire gli esponenti più avanzati più rivoluzionari però evidentemente le donne non entravano in questa in questa ottica illuminata e vi accenno solo rapidamente al fatto che naturalmente questo testo di cui poi ora parleremo brevemente suscita dalle reazioni allora ad esempio qui abbiamo questa Madame Bernier che si dice a favore dice il destino delle donne è di rendere felice l'uomo devono essere conscie della loro inferiorità ed invece ci sono altre due donne che rispondono polemicamente ad esempio Maria Armand Jeanne Gasson credo di Fur è contro il progetto di legge che appunto vuole impedire alle donne di imparare a leggere e dice pari un femme qui ne se pique pas d'être femme de lettre dice scritto da una donna che non vuole essere una letterata ma semplicemente un'opera che contiene delle risposte argomentate che rimettono il signor Marescial al suo giusto posto di sciocco di spirito fuori fuori luogo e di buffone reazionario e poi abbiamo Albertin Clément Emery che scrive appunto le donne vendicate dalla sciocchezza di un filosofo del giorno o risposta al progetto eccetera quindi diciamo evidentemente è un testo che suscita delle reazioni e volevo solo accennare al fatto che come probabilmente sapete come dire la difficoltà anche in un clima di grande rinnovamento come quella della rivoluzione francese la difficoltà a fare presente la questione femminile come oggi diremmo è incarnata anche da una scrittrice Olympe de Gouges la quale fra l'altro aveva scritto anche delle riflessioni contro la schiavitù e appunto aveva scritto un'opera sulla pari dignità degli uomini e delle donne rifacendosi alla dichiarazione dei diritti che era stato alla base della rivoluzione francese ora lei viene ghigliottinata non perché avesse scritto questo testo ma per delle posizioni politiche che aveva preso in ogni caso diciamo non fa una buona una buona fine ecco ma veniamo a questo testo che apparentemente diciamo potrebbe apparire grottesco assurdo ma che invece era effettivamente un progetto di legge che poi non viene presentato allora per darvi un'idea si comincia con una poesia indirizzata alle donne dove si dice se l'albero della conoscenza va proibito serbate l'ignoranza vostra senza rimpianto alcuno custodi di virtù e fonte di piaceri dedicate il tempo dello svago ai no coi passatempi questo diciamo è il prodromo del testo qual è la struttura di questo testo la struttura di questo testo è molto interessante perché è una struttura tripartita quindi c'è una prima parte e leggerò qualche esempio dove si dice considerando che quindi l'idea è che lui considera una serie di esempi storici considerando che testo della legge seconda parte di conseguenza cioè qual è l'idea dell'autore di questo testo l'idea è che poi lo vedremo anche negli esempi che vi leggerò quello che lui dice non è un'opinione è necessario è la ragione che vuole così è la ragione quindi diciamo interessante vedere questo aspetto autoritario della ragione appunto vi do appunto qualche esempio ad esempio nella prima parte dove parte dalle considerazioni dice imparare a leggere è per le donne qualcosa di superfluo e nocivo al loro naturale ammaestramento è un lusso il cui costante risultato fu la corruzione e la rovina dei costumi e questo è veramente un leitmotiv cioè sostanzialmente parlavamo prima delle grandi contrapposizioni antropologiche tra maschile e femminile il dentro e il fuori l'ozio la staticità l'attività un'altra contrapposizione è natura-cultura cioè l'idea è che la donna è sostanzialmente a livello della natura e che si appena varca il confine diventa pericolosissimo diventa un elemento di corruzione ecco questo è un aspetto che ritorna continuamente quindi appunto l'idea che una donna colta è qualcosa che non solo è un monstrum ma corrompe la società corrompe la società in cui vive ad esempio vi leggo qualche altro esempio l'intento della natura buona e saggia è che le donne dediti esclusivamente alle cure domestiche perché naturalmente la donna deve vivere in funzione del marito si sentono onorate di tenere tra le mani non un libro o una penna bensì la rocca e il fuso e questo è un altro elemento sensivo la donna che fila la donna che fila che tesse una specie di vestale appunto della santità della casa poi ci sono delle osservazioni molto carine del tipo le donne che sanno leggere sanno amare meno sono più fredde appunto quindi un aspetto di snaturamento della natura femminile ci sono poi una serie di osservazioni sempre in questa prima parte pseudostorica sul fatto appunto che quando la donna ha varcato il confine della casa diciamo ha avuto una funzione pubblica ha creato rovine ad esempio se Caterina De Medici non avesse saputo leggere in Francia non ci sarebbe stata la notte di San Bartolomeo e poi la morte precoce di numerose fanciulle che le madri avevano condannato allo studio delle lingue e altre discipline tutte assai poco compatibili con le risorse fisiche e le naturali inclinazioni di una giovane appunto dimostra che non bisogna quindi diciamo ci può essere e siamo e siamo nel 1801 quindi diciamo moltissime cose erano successe anche in Francia poi un marito di buonsenso è più soddisfatto accanto a una moglie sempliciotta ignorante che non con una piena di pretese culturali è smaniosa di successo poi le donne che leggono diventano sciatte indolenti presuntuose schizzinose bisbetiche indisciplinate e Saffo che naturalmente è sempre tirata in ballo quando si parla delle donne avrebbe salvaguardato la sua reputazione se non avesse saputo scrivere almeno non sapremmo poi Penelope Penelope Nausicaa Lucrezia non sapevano leggere Silvia sarà contenta di sentire che Lucrezia appunto l'eroina non sapeva leggere e poi si parla anche della Madonna non dovrete sapere che lui era ateo però naturalmente anche le argomentazioni religiose quando gli facevano comodo diceva allora nell'annunciazione Gabriele l'arcangelo non sorprese la casta fanciulla intenta alla lettura essa ramendava le bracche del suo sposo poiché la sua ignoranza aveva trovato grazia al cospetto dello Spirito Santo ora questo è molto interessante a parte voglio dire la specie di sberleffo era lì che ramendava i calzoni del marito ma questo voglio dire è contro il fatto che nella iconografia molto spesso la Madonna legge il libro di preghiere però vi voglio anche far vedere un esempio molto carino di inversione dei ruoli che mi è stato comunicato da Massimo Stella in cui abbiamo vedete questo libro d'ore del 400 francese si vede male dove appunto mi dispiace si vede male molto bello dove San Giuseppe ha il bambino e lei legge quindi così mi è sembrato divertente vedere questa testimonianza accanto appunto al passo di Silvaine che abbiamo letto ma poi appunto ad esempio non so dice Laura la donna amata da Petrarca era un'ingenua pastorella ora questo se l'ha inventato lui che non sapeva leggere i versi da lei ispirati a Petrarca quindi appunto l'idea di una totale passività della donna lei ispira giustamente Petrarca però lei non sa leggere i versi appunto di Petrarca e dice ma le stesse donne intelligenti approveranno questa legge e se vedranno in questa misura urgente e necessaria non già per carità un'estensione del dispotismo virile bensì un richiamo alla ragione e qui veniamo appunto a quello che dicevo cioè tutta questa prima parte di evocazione di casi o di pseudo casi storici serve appunto a trarne certe conseguenze quindi è veramente una costruzione ideologica molto rigida per cui appunto dato che le cose stanno così la storia ce lo dimostra se ne traggono certe conseguenze e tutta questa seconda parte del progetto di legge inizia con la ragione vuole la ragione naturalmente con la maiuscola quindi la ragione vuole che all'uomo vadano i prodotti del genio alla donna i sentimenti del cuore che sia proibito alle donne di imparare a leggere scrivere stampare incidere compitare ecco e poi per carità non devono andare alle scuole di disegno perché se no guardano le bellezze maschili e questo naturalmente in un'epoca in cui invece diciamo ormai le artiste erano ben rappresentate e poi questo è bellissimo scusatevi do solo qualche altro esempio la ragione vuole che i mariti siano gli unici libri delle loro mogli libri viventi ove giorno e notte e si imparino a leggere il proprio destino oppure una donna ben nata e ben educata deve essere creduta sulla parola nel momento in cui si sposa non deve essere in grado di firmare perché cosa vuol dire che c'è bisogno che lei firmi se è così onesta le si crede sulla parola come vedete c'è anche questo gusto dello sberleffo questo gusto diciamo paradossale la ragione proibisce i libri di chiesa basta il rosario dice lui che era appunto ateo una donna poeta è una piccola mostruosità morale letteraria così come una donna sovrano è una mostruosità politica e questo diciamo dopo un periodo in cui come sapete in Europa c'erano state diverse appunto sovrani abbiamo parlato proprio qui di Elisabetta d'Inghilterra ma non solo la ragione vuole che d'ora in poi sia consentito esclusivamente alle cortigiane di essere scrittrici intellettuali e artiste e questo è una specie di specchio diciamo quello che abbiamo visto per la Tullia d'Aragona i buoni libri siano letti alle donne non dalle donne la ragione vuole che alle donne che si ostinassero scrivere libri non sia consentito avere figli e dato che c'erano anche delle donne scienziate dice le donne non guardino non continuo gli astri nel cielo ma le uova delle galline nel cortile nel cortile di casa va bene penso appunto di avervi dato solo alcuni alcuni esempi quindi appunto quando ci interroghiamo quando anche io mi sono interrogata diciamo sulla difficoltà come vi dicevo no di trovare così delle testimonianze di autorappresentazione delle donne che leggono evidentemente anche se le cose stavano molto cambiando avevano già cominciato a cambiare fortemente già nel 500 poi qui addirittura no siamo dopo la rivoluzione francese evidentemente come dire c'era un contrappeso molto forte fatto di pregiudizi secolari a cui questo testo ha almeno il vantaggio di dare chiaramente espressione cioè diciamo dice chiaramente quello che molti pensavano ma che magari non osavano dire tutto questo tutto questo evidentemente è anche la reazione a una paura a una paura cioè il fatto che evidentemente nella società francese del secondo settecento erano molto invece abbiamo dato solo anche qualche esempio le donne che scrivevano leggevano avevano cercavano anche di avere un protagonismo anche politico quindi è evidentemente una reazione di paura una reazione appunto che che cerca di di bloccare un percorso in corso e come esempio invece appunto di una controtendenza di quanto stava cambiando volevo appunto almeno citare il caso di Virginia Woolf di questo bellissimo testo una stanza tutta per sé che a cui diciamo potrò fare solo qualche accenno ma che è un testo ricchissimo su cui se ci sarà occasione magari torneremo lo potete trovare sia nel meridiano dedicato a Virginia Woolf ma anche come testo autonomo che cosa che cosa fa Virginia Woolf in questo in questo testo dunque questo testo innanzitutto viene pubblicato nel 1929 e è il flusso di una conferenza che lei tiene a un college femminile e è molto interessante il testo anche dal punto di vista della struttura letteraria perché è una cosa diciamo a metà strada tra il saggio e il romanzo quindi diciamo è una struttura molto molto bella anche molto ricca che evidentemente risente anche di quelle che erano le sperimentazioni nella critica letteraria dell'ambiente in cui Virginia viveva cosa fa cioè io ricorderò solo alcune componenti di questo testo appunto che si collegano a quanto abbiamo visto prima ma ci sono molti altri spunti diciamo su cui ci potremmo fermare cosa fa Virginia si confronta diciamo con quelle che erano le tradizionali accuse contro le donne cioè le cosiddette prove della inferiorità femminile la ragione vuole che le donne non hanno mai inventato niente nessuna donna potrebbe essere come Shakespeare ad esempio questi sono esempi diciamo che lei prende in esame allora cosa fa lei per rispondere diciamo a queste osservazioni innanzitutto è interessante che come dire decide di parlare non con Leo cioè come Virginia ma prende un nome chiamatemi Mary Beaton Mary Seaton o Mary Carmichael cioè vuole far vedere che il suo è un punto di vista che può essere di qualsiasi di qualsiasi donna quindi anche questo è molto interessante perché evidentemente è lei che scrive è l'io che scrive però allo stesso tempo vuole creare una tensione diciamo tra appunto il proprio io ma anche sì la ragione vuole che o almeno non tanto la ragione vuole che ma dice io voglio creare un'opinione e dato che ambienta questa sua opera nel in quel contesto che un po' insomma ironicamente chiama Oxbridge che evidentemente è una fusione di Oxford e di Cambridge quindi l'ambienta come dire nel contesto accademico più tradizionale possibile ecco appunto dice ecco io non vi dico la verità non vi dico la ragione vuole che vi dico la mia opinione e come sapete diciamo la sua opinione diciamo nasce da un'analisi della della storia quindi dal fatto che le donne sono state tradizionalmente escluse dall'educazione e anche dall'indipendenza economica quindi appunto ci vuole per poter scrivere soldi l'indipendenza economica è una stanza tutta per sé dove evidentemente una stanza tutta per sé diventa anche il simbolo di questa possibilità di esprimere se stessi la necessità di avere uno spazio appunto per sé e tra le cose geniali che troviamo in questo testo c'è l'invenzione che io trovo veramente bellissima della sorella di Shakespeare che lei chiama Judith allora dice ok Shakespeare voi dite nessuna donna potrebbe essere Shakespeare benissimo allora immaginiamo che Shakespeare avesse una sorella chiamiamola Judith così come lei aveva detto ma chiamatemi Mary chiamatemi come volete questa sorella non l'avrebbero mandata a studiare le avrebbero imposto un marito e se lei anche fosse stata dotata dalle stesse qualità intellettuali letterale del fratello che possibilità avrebbe avuto infatti una storia tragica questa che ci delinea di questa Judith perché lei alla fine si suicida quindi diciamo cosa cosa fa cosa fa Virginia Woolf appunto Virginia Woolf decostruisce il paradigma tradizionale cioè decostruisce proprio quello che abbiamo visto nel testo di Silvaine cioè il fatto che considerando la storia se ne dovrebbe dedurre dei limiti che hanno a che fare con la natura con la natura femminile e poi c'è tutta una parte anche sulle scrittrici sulle scrittrici appunto femminili dell'Inghilterra del 7-800 dove c'è le osservazioni su cui non ho tempo di fermarmi ma molto fini cioè sul fatto che anche le donne che cominciano a scrivere risentono diciamo dell'immagine che il mondo maschile gli ha trasmesso e quindi ci sono osservazioni di una grande finestra psicologica sul limite della rabbia sul limite della rabbia cioè sul fatto diciamo di scrivere mossi anche dalla rabbia diciamo per l'immagine che gli altri hanno diciamo della donna ecco quindi questo testo come vi dicevo in un certo senso lo possiamo collocare alla fine ma anche all'inizio del percorso che stiamo cercando di fare è un testo come dicevo molto bello anche dal punto di vista letterario dove ci si confronta con la storia appunto ci si confronta appunto con il modo in cui il mondo femminile è stato costruito ed è stato limitato con questa invenzione veramente geniale appunto di Judith della sorella di Shakespeare ma per concludere questo nostro che chiarata volevo ricordare dato che siamo partiti dal piacere della lettura da queste bellissime osservazioni che già Tuglia d'Aragona faceva sulla libertà sul piacere che la lettura dà volevo chiudere con un brano sempre di Virginia Woolf un brano tratto da una conferenza che lei tiene qualche anno prima di scrivere una stanza tutta per sé nel 26 sempre una conferenza tenuta una scuola femminile questa conferenza è dedicata a come dobbiamo leggere un libro e ci sono dei passi molto belli sul fatto che su come appunto si legge un libro Virginia dice lasciatevi prendere dal libro che leggete in un primo momento diventate quasi complici dell'autore solo dopo magari prendete un distacco un distacco critico c'è questa idea appunto di una prima fase della lettura come qualcosa che rende per riprendere un vecchio tema amici del lettore che si legge diventate complici solo dopo magari prendete le distanze per criticarlo ma conclude appunto con un bellissimo elogio della lettura con la quale volevo chiudere anch'io e dice io almeno a volte ho sognato che il giorno del giudizio universale quando tutti i grandi condottieri avvocati uomini di stato arriveranno in cielo per ricevere le loro ricompense le loro corone i loro lauri i loro nomi indelebilmente incisi sul marmo imperituro l'onnipotente guarderà San Pietro e gli dirà non senza una traccia di invidia nel vederci arrivare con i nostri libri sotto il braccio questi non hanno bisogno di ricompensa qui non abbiamo niente per loro sono quelli che amavano leggere grazie grazie posso fartene una io così lo faccio io così almeno rompo il ghiaccio va bene solo per questo altrimenti stavo zitta se parlavate voi ho visto a proposito di Tullia d'Aragona nella tua escursione per lustrazione appunto alla ricerca di passi di donne che parlano della loro esperienza con la lettura quante altre dediche o avvertenze al lettore di donne hai trovato nei libri scritti da donne perché ad esempio io notavo che eh esatto già quello è un dato abbastanza notevole no? allora devo dire che questo testo di Tullia d'Aragona mi è stato suggerito da Virginia Cox che è una studiosa inglese che insegna a New York che ha scritto dei bellissimi libri proprio ricostruendo la come dire le presenze femminili nella letteratura e appunto io avevo fatto un seminario dove dicevo ma io non ho trovato in questo percorso diciamo nessuna voce femminile lei mi ha detto ma provo un po' a guardare questa cosa qui che effettivamente secondo me è molto interessante ma non è esattamente lo stesso protagonismo che troviamo in Machiavelli in Petrarga in Montegna insomma e la domanda che faceva Serena molto interessante perché proprio Virginia Cox ha studiato come dire la politica editoriale la politica editoriale dove come nel resto succede anche oggi non so uno ti fa una recensione oppure ti cita o non ti cita cioè il fatto che ci fossero dei testi scritti da donne in alcune antologie che sono diciamo un genere molto importante all'inizio della stampa antologie di lettere antologie di poesie era evidentemente una cosa importante però per quello che ho visto io in genere tutto questo è gestito da un uomo è gestito da un maschile cioè sia chi decide quali testi mettere nell'antologia che vuol dire anche quali testi non mettere naturalmente sia chi si indirizza al lettore almeno per quello che risulta a me poi magari voi trovate qualche controesempio è una è al maschile diciamo e una delle cose che proprio Virginia Cox ha mostrato è diciamo che si dice giustamente col 500 c'è un nuovo protagonismo femminile nella scrittura però come dire le scrittrici magari di famiglia nobile ma non solo in genere si mostrano renitenti verso il fatto che le loro opere vengano stampate con il loro nome perché perché la donna deve essere modesta quindi diciamo il fatto di che si pubblicano magari puoi scrivere però il fatto di pubblicare infatti a proposito appunto di questo genere molto interessante che sono le dediche no le prefazioni se appunto spesso se si tratta di opere scritte da donna trovate ah lei non voleva assolutamente che io pubblicassi le sue poesie però dopo molte insistenze io soggetto maschile ho pubblicato le sue poesie oppure altra possibilità come dicevo prima pubblichiamo questa questa opera ad esempio il dialogo dell'infinità d'amore Tudia d'Aragona ma ma l'aveva scritto davvero lei quindi diciamo il rapporto è a lungo molto molto complesso non volevo fare questa domanda sapere appunto la sua opinione su questo perché parlando di Tudia d'Aragona come la cortigiana comunque che è colta io insegno anche latino e quindi mi veniva in mente il riferimento alla letteratura latina semproni eccetera cioè in cui la donna che è colta che è cortigiana che è comunque ammaliatrice e anche anche questo aspetto di essere comunque colta per esempio di sempre si dice che ballava cantava sapeva la musica quindi mi è venuta questa associazione di idee allora volevo sapere la sua opinione non potrebbe essere che nell'immaginario appunto maschile la donna che legge la donna che sa la musica è comunque come si vede poi in quella citazione che lei ha fatto sullo scrittore dell'ottocento non è una donna diciamo di buoni costumi mentre la donna di buoni costumi non deve non deve troppo mostrare la sua cultura o anche le sue capacità ecco questa è un'osservazione molto interessante cioè probabilmente sì c'è il modello c'è il modello classico però siamo ormai nel mondo cristiano anche quasi della controriforma quindi sì da un lato probabilmente una cortigiana che sappia anche leggere Ariosto leggere Petrarca cantare ti intrattiene meglio il modello della geisha insomma quindi nello stesso tempo rispetto al modello latino c'è questo senso del peccato insomma c'è questo senso del peccato però ecco se questa è una questione molto interessante sarebbe bello anche ricostruire storicamente diversi modelli quindi diciamo l'idea che una donna colta in qualche modo sia pericolosa eh sì può darsi allora la cosa è complicata perché ad esempio poi c'ho delle ricerche anche sulle poesie delle vedove allora lì va bene perché scrivono però per rimpiangere il marito è una questione molto complessa diciamo però ecco sicuramente rispetto al mondo classico c'è il senso del peccato ecco che il mondo classico non aveva dunque citava Olympe de Gouges lei nell'intervento questa rivoluzionaria francese che appunto è stata ghigliottinata ora io ricordo di aver letto che la sua colpa lei diceva per posizioni politiche in effetti la sua colpa fu quella di dedicare le cose che aveva scritto a Maria Antonietta cioè cosa vuol dire lei era una rivoluzionaria però lei seppe riconoscere che al di là della differenza di stato c'era qualcosa che le legava diciamo così quindi una presa di posizione politica diciamo al riconoscimento della soggettività femminile in questo caso che insomma diciamo il suo punto di vista era anche se siamo lontanissime dal punto di vista dello stato sociale della classe sociale c'è qualcosa che in quanto donne ci accomuna appunto il rapporto col maschio che è un rapporto di non libertà o di prevaricazione allora secondo me è un po' questo sempre il punto cioè quello che spaventa è la libertà femminile e anche nell'esempio di marescial che lei faceva ma ora non per fare polemica mi viene in mente un certo pillone oppure sono le stesse cose gira e rigira che la donna deve stare lì appunto in casa a svolgere queste funzioni la donna libera è pericolosa ora mi veniva in mente proprio perché lei è partita da una domanda ossia perché manca questa autorappresentazione femminile penso che a lungo le donne anche quando lettrici le elite insomma che riuscivano comunque a studiare erano comunque di fronte all'alterità leggendo cioè questo rapporto che lei diceva Petrarca è alla pa insomma comunque cercava un rapporto di parità o addirittura è una cosa che per le donne è stata molto complicata perché comunque l'altro quello che scriveva nella maggior parte dei casi era l'uomo quindi lì c'è proprio l'alterità non c'è il riconoscimento della soggettività per la nascita della soggettività femminile dopo la fase emancipazionista in cui era l'uomo il modello cioè la soggettività femminile nasce proprio nel riconoscimento nel riconoscersi nell'altra e secondo me Virginia Woolf è uno che ha fatto questo passo cioè Virginia Woolf era perfettamente consapevole della differenza e tutto il brano che lei citava insomma ho pensato anche alle Treghinei che è insomma un testo anche molto significativo da questo punto di vista questa distanza questa estranetà dal mondo maschile che spiega molto c'è quel brano che lei ricordava in cui dice lei che è molto bello tutte le volte che sento parlare di una bruciata sul rogo di una che è penso che lì ci poteva essere una sorella di Shakespeare cioè una donna che aveva queste doti che la società non accettava rifiutava rigettava perché? perché è la donna libera che fa paura e secondo me si torna lì appunto richiamavo Pilon non a caso richiamo il manifesto della Lega che a Catanzaro dove era ripercorre ripercorre le stesse cose cioè appunto le donne sono responsabili di aver rovinato la famiglia insomma sembrava marescial no? è pericolo quindi la legge per non so se arriverà magari a provare anche a tenerci a casa per legge non mi stupisco più di nulla comunque sì molte grazie non sapevo questa cosa di Olempe che lei si riconosce in qualche modo molto interessante sono molto d'accordo diciamo con le osservazioni che lei faceva ecco poi diciamo evidentemente poi il come dire l'aggancio per condannare la morte era legato adesso non ricordo esattamente l'ho anche letto ma adesso non me lo ricordo legato a una posizione politica però è chiaro che c'era dietro tutto questo e questa questione diciamo del fatto che l'abbiamo vissuta anche noi sulla nostra pelle il fatto che anche quando ci sono momenti di grande trasformazione politica eccetera non è immediato non è logico cioè che ci sia anche una nuova sensibilità per l'aspetto femminile questo è una cosa che si ripete nella storia l'anno scorso sono stata mi è tornata in mente ora sentendola ho una lezione di Mario Banti che da storico leggeva Madame Bovary da storico quindi ha parlato a fondo del rapporto tra Madame Bovary e la lettura e del regresso della posizione femminile nell'ottocento che emerge in Madame Bovary e lui da storico forse proprio per la sua formazione lo spiegava per motivazioni politiche cioè la rivoluzione francese si è voluta opporre in tutto all'ancien regime e quindi anche al processo di liberazione delle donne colte che tenevano salotti letterari filosofici e quindi rifiutando tutto dell'ancien regime rifiutavano anche il percorso di liberazione femminile ecco il manifesto degli uguali legato proprio a questo momento di grande misoginia di questo testo che lei ci ha presentato non so se è d'accordo o se da letterata l'impostazione rimane comunque diversa io sono un po' perplesso su questa lettura però non sono un'esperta come Banti diciamo dell'Ottocento quindi magari ha ragione lui così occhio e croce però appunto una questione che dovrei approfondire mi sembra un po' semplicistico pensare che come dire si potesse tranquillamente mettere sotto l'insegna dell'ancien regime anche le fam savanta anche diciamo cioè è un'operazione magari l'avranno anche fatta però è un po' riduttiva capito l'ancien regime non è di suo legato a un nuovo protagonismo femminile però ripeto una questione molto interessante su cui io non ho una competenza specifica devo dire piuttosto così anche a livello di esperienza personale quello che dicevo prima che cioè anche mi sembra che si sia ripetuto insomma penso al 68 si sia ripetuto sia pure con contraddizioni eccetera il fatto che non necessariamente per dirle in parole povere un movimento anche di di rivolta integrale contempli in sé anche una nuova attenzione alla donna che non sia maschilista ecco questo non è e quindi diciamo forse per esperienza personale tendo un po' a leggere queste cose in modo analogo poi la questione di Madame Bovary è molto interessante perché appunto qui spero di non noiarvi troppo ma volevo ricordare che in questi testi che io ho ripercorso nella ricerca che vi dicevo uno degli aspetti diciamo è da un lato la forza della lettura il fascino della lettura la capacità di evocare l'altro e così via d'altro lato però c'è anche un po' la paura della lettura perché ad esempio ci sono dei passi bellissimi di Tasso in cui dice che quando tu leggi gli amori di Petrarca la sofferenza di Petrarca per la morte di Laura in qualche modo tutto ciò ti invade perché tu ti immagini Petrarca e l'immaginazione dice Tasso è senso interno quindi è che è un po' che è un po' la Francesca da Rimini o poi dopo la Madame Bovary cioè diciamo che un aspetto interessante è questa diffidenza verso il potere della lettura che diventa soprattutto diffidenza per il potere che ad esempio i romanzi hanno sulle donne e lì veramente c'è una continuità fra appunto Paolo e Francesca fino a Madame Bovary fino al fatto che la Chiesa ha a lungo classificato i romanzi sconsigliati per adulti così come per i film che è diciamo una dimensione di classificazione morale che vale per tutti ma che vale in particolare per le donne quindi insomma questa questione questa interpretazione di Banti è molto interessante ma non so se a me torna fino in fondo domanda da 10.000 milioni voi che appunto insegnate i ragazzi leggono non leggono sempre meno sempre meno leggono forse cose che non sono in senso classico letteratura cioè hanno questi interessi per i fantasy per leggono dei fumetti anche molto interessanti credo però è un modo io credo che sia proprio un altro percorso non saprei dire il livello alcuni leggono anche cose molto belle ma diverse da quelle che leggevamo noi ecco poi ci sono quelli che leggono sempre comunque però visto che ho il microfono in mano a questo punto più che una domanda lo so una riflessione se poi ci puoi illuminare su questa cosa cioè io ho una classe quinta adesso cominciamo a abbiarci a questo benedetto esame di un liceo artistico e quindi cominciamo a mettere giù allora quali sono gli autori fatti i movimenti gli autori i brani e mettendoli in fila vedendolo sempre e poi confrontando anche quel che facciamo noi con l'insegnante di filosofia che fa altri testi tu dove sei cosa faccio sono sempre solo uomini ma noi abbiamo metà della nostra utenza che è femminile sono donne sono future donne e sento un po' quello che ha detto la mia collega cioè noi abbiamo proprio il problema di dare un rispecchiamento anche a queste giovani donne perché sì tu parli della cultura presenti un'idea presenti un percorso storico ma poi quando andiamo a presentare chi ha fatto chi ha detto chi ha pensato ti confronti con uno e si chiama Leopardi però è Giacomo cioè non non difficile trovare figure femminili difficile trovare uno spazio delle antologie se non uno strapuntino a margine che è così trascurabile che non viene fatto perché non c'è tempo il tempo è tiranno dobbiamo fare altre cose l'ho sentito quest'anno veramente come un peso perché ho visto gli occhi delle mie alunne che mi guardavano e dicono ma non c'è una donna e ho fatto sì avete ragione e dobbiamo farci qualcosa però non credo che sia così per forza ma le antologie ci incanalano in questo modo se non arriviamo a Anna Arendt per la storia è difficile e però sono già formate è un tutto un mondo che le ha fatte parlare al maschile è la storia scritta però laddove è possibile laddove ci si può intervenire non c'è neanche sensibilità in chi ci presenta gli strumenti a cui possiamo appoggiare un suggerimento o qualcosa non saprei però sono un po' non lo so mi ha lasciato un po' rattristata ecco vedere proprio lo sguardo delle mie alunne che mi dicevano ma qua per noi c'è po' sì qua per noi la nostra voce a questo livello di coscienza ci sono arrivati però la voce non c'era è verissimo cioè questo non solo ma ad esempio io penso alle antologie o esistono appunto antologie oppure esistono antologie delle scrittrici delle poetesse che è meglio che niente però è un altro modo di ghettizzare diciamo ma poi se noi qui abbiamo fatto dei seminari appunto sulle scrittrici sulle poetesse del Cinquecento e come dicevo una delle cose interessanti è diciamo io avevo una platea fatta naturalmente di ragazzi e ragazze della scuola e sentivo molta resistenza soprattutto da parte dei ragazzi perché sembrerebbe che non sono cose serie parlare di questo capito allora diciamo secondo il metodo storico filologico che ha contraddistinto questa scuola abbiamo cominciato a vedere i testi e ho detto cioè io non vi dico che sono belle sono meno belle guardiamo leggiamo questi testi e la cosa molto interessante è stata lo accennavo prima vedere il modo in cui la critica ne ha parlato ma è una cosa pazzesca c'è una specie di museo degli orrori ma fino al novecento voglio dire sono dei passi tipo non so Isabella Isabella Deste che a Mantua invita i migliori pittori per il suo studio considerazione di storici dell'arte anche molto vicini a noi stiamo parlando di storia dell'arte ma il problema è simile questa donna frigida cioè capito ma dico ma quando mai se tu parli di un personaggio maschile ti interroghi le sue prestazioni sessuali e questo è il meno cioè è molto interessante veramente vedere ma anche grandi critici con quale degnazione hanno affrontato la scrittura al femminile che non significa naturalmente che fossero tutti dei geni ma neanche tutti i poeti erano leopardi cioè voglio dire quindi c'è molta strada ancora ancora da fare sì e il rischio è di andare indietro invece che andare avanti naturalmente però questo è sicuramente sicuramente vero parlavo prima di Virginia Cox o di altre colleghe americane loro stanno lavorando molto su questo e stanno lavorando molto proprio anche a livello di ricerca di ricerca nel senso che hanno fatto vedere come appunto anche tra 5 e 600 che è l'età poi della controriforma l'età per cui per molti aspetti si accentua la diffidenza verso la cultura delle donne la cultura delle donne però invece è possibile anche far rivenire fuori una serie di voci quindi diciamo su questo si sta molto lavorando però il problema al solito è la distanza abissale tra la ricerca la ricerca di questo tipo e la scuola le antologie e questo è il problema naturalmente per me è stato quando ho fatto questo seminario insomma è stato oddio un po' le conoscevo le critiche però anche metterle accanto l'uno all'altro mi ha fatto un po' impressione ecco in fondo torna quello che abbiamo visto in Silvain Marescial cioè l'idea che la donna è sostanzialmente natura tu devi sempre ripartire ripartire da lì no? quindi la devi anche se scrive la devi sempre schiacciare sulla sua vita sessuale sulla sua sulla natura diciamo e questo è pazzesco perché siamo nel 2019 ecco io anche per confortarci un po' vorrei portare un controesempio di questa autrice della letteratura francese che è considerata la prima autrice che ha vissuto della sua scrittura cioè lei si è fatta proprio pagare riuscita a farsi pagare per quello che scriveva e siamo alla fine del 300 tra la fine del 300 e l'inizio del 400 ed è Christine de Pisan mi sembra un controesempio molto significativo anche perché mi sembra miracoloso che lei per esempio tra i suoi scritti abbia tenuto a insegnare alle donne a come educare i figli i figli maschi al rispetto delle donne questo alla fine del 300 e poi contemporaneamente però era un'autrice che ha anche fatto diciamo della poesia tradizionalmente concessa alle donne cioè la poesia delle vedove perché aveva anche perso il marito e ha fatto delle bellissime cose su questo rimpianto mai sopito insomma ecco così era una riflessione più che una domanda infatti è una di quelle che è stata poi rivalutata proprio in questa corrente quindi grazie per averlo ricordato grazie mille professoressa senta le volevo fare anche io una considerazione una riflessione io insegno storia e filosofia a un liceo e a proposito mi riaggancio alla collega quando parlava appunto della manualistica e di conseguenza di quanto il taglio in effetti nelle antologie sia ovviamente un taglio molto di autori maschili una cosa che ho notato negli ultimi anni però per quanto riguarda invece la storia in particolar modo la storia dalla rivoluzione francese a quella contemporanea prima di Anna Arendt è una riflessione personale perché io ci tengo in quanto appunto per il motivo di formare comunque una classe di ragazze anche no ovviamente non solo di maschi è l'attenzione che si dà invece nei manuali di storia ad alcune figure femminili che spesso hanno lavorato nella scrittura giornalistica dalla Pimentel ad esempio fino ad arrivare a Jesse White Mario Angelica Palli Bartolomei ecco lì di solito nei manuali di storia invece ci sono degli appositi approfondimenti dove si parla appunto di questa scrittura femminile di taglio anche giornalistico ed è una cosa che di solito sorprende molto perché si parla anche di reporter di guerra in effetti perché guerra di indipendenza anche durante il risorgimento ed è qualcosa che all'inizio stupisce diciamo chi ascolta le classi poi però in realtà leggendo anche i rapporti che comunque c'erano con alcuni eroi del risorgimento e non solo ci si rende conto quanto in effetti queste figure abbiano costituito un riferimento importantissimo ed è interessante vedere la reazione proprio delle studentese e degli studenti che invece sono interessati perché si accorgono che la scrittura è una scrittura comunque sia di alto livello di grande partecipazione e soprattutto anche di questa legata molto al coraggio di queste donne che in effetti vanno sul campo di battaglia a Cortatone a Montanara seguono spesso anche gli eroi e le figure di riferimento che poi sono quelle che sono nel manuale nei grandi punti di riferimento e talvolta subiscono anche pagano anche con la vita mi viene in mente appunto la Pimentel quindi ecco devo dire che anch'io per confortare per quanto riguarda la questione dei manuali di storia un pochino qualche cosa sta avvenendo fuori poi ovviamente si arriva a Narent dove c'è tutta un'apertura certamente quello sì grazie volevo aggiungere una cosa nei manuali di letteratura che ho adoperato io la prima figura femminile che emerge nelle storie di letteratura italiana è Caterina da Siena quindi volevo sapere se ovviamente abbiamo parlato di Tullia d'Aragone nel 1500 se anche prima oltre alla figura della cortigiana c'è anche la figura della mistica scrittrice e poi l'altra domanda che volevo fare è questa se ci sono poetesse che non leggono cioè io ora l'unica che conosco è Beatrice di Pian degli Ontani 1800 mi sembra si prima dell'età del 1800 che è una poetessa di improvvisazione in ottave e quindi volevo sapere se ci sono donne che fanno poesia che viene raccolta da altri ma non sanno leggere e scrivere molto interessante dunque sì Caterina da Siena sicuramente fra l'altro è una anche che si permette di predicare altro tabù si permette di dare consigli ai potenti della terra quindi è una figura eccezionale poi sì ci sono molte figure di mistiche c'è le ha studiate soprattutto Giovanni Pozzi ci sono anche dei raccolti proprio ci sono delle belle antologie che si chiamano mistiche ora lì il problema e poi vengo alla seconda questione il problema delle mistiche ma anche un po' il problema di Caterina è che per diversi motivi non sappiamo se Caterina sapeva scrivere e poi c'è come noto come in tutte le religioni c'è diffidenza verso l'esperienza mistica quindi diciamo spesso i testi appunto stavo pensando questa bella antologia di Giovanni Pozzi ma poi ci sono anche altre antologie di mistiche il problema di questi testi è chi li ha scritti perché spesso c'erano dei confessori che le dovevano in qualche modo controllare e che si facevano raccontare le visioni le esperienze che avevano vissute quindi sicuramente e questo è stato un filone che è stato abbastanza studiato anzi molto studiato è un filone affascinante però lì dal punto di vista proprio come dire cosa sono questi testi che leggiamo qual è la mediazione spesso c'è una mediazione maschile perché era una mediazione anche di controllo capito su quello che detto questo certo il personaggio di Caterina è incredibile la questione dell'improvvisazione è molto interessante perché soprattutto nel settecento abbiamo una serie di testimonianze su queste figure femminili che non sempre sapevano leggere anche se spesso sapevano che si esibivano come una specie di invasate infatti abbiamo delle testimonianze molto interessanti e tra virgolette improvvisavano improvvisavano e era una cosa che si usava mi pare che lo stesso metastasio aveva questo training diciamo di improvvisatore poi a un certo punto smette di farlo perché deve più controllare la qualità dei versi però sì ci sono molte testimonianze anche settecentesche di improvvisatrici femminili ora questo diciamo è un aspetto che rinvia alla questione della memoria cioè qual è sia nell'improvvisazione che poi nella formazione nella creazione della poesia molto importante è quello che abbiamo nella mente no? allora perché è il patrimonio che usiamo allora questa memoria letteraria può essere anche orale diciamo e abbiamo una serie di testimonianze sul fatto che anche i contadini analfabeti nelle nostre campagne sapevano a memoria la divina commedia o l'Orlando furioso insomma poi tutta la tradizione dei magi quindi sì è una domanda molto interessante la sua cioè ci possono essere sì delle donne che che fanno poesie e non e non leggono non leggono perché non sanno leggere ma questo non significa che non abbiano lo stesso un canale con la letteratura perché appunto la letteratura può essere letta può essere ascoltata del resto c'è abbiamo una serie di testimonianze che ad esempio sono raccolte nel libro di Albert Mangel la storia della lettura una serie di testimonianze proprio sulla tradizione per cui si legge alta voce no? si legge alta voce allora magari chi legge sa leggere e chi ascolta ascolta quindi sì giustamente lei dice c'è anche questo filone di donne ma non solo di donne che non leggono perché non sanno leggere ma questo non significa che non abbiano accesso alla tradizione letteraria a loro volta non possano produrre appunto poesia bene suona la campana va bene grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti